Adesso è ufficiale. BlockFi è ufficialmente uscita dal fallimento e sta ripagando tutti i suoi clienti con le criptovalute. Benvenuti su Cryptovalute Italia. Come già vi abbiamo anticipato, BlockFi è uscita ufficialmente dal suo fallimento e proprio in questo momento sta ripagando tutti i suoi clienti in criptovalute. Anche noi abbiamo già effettuato il prelievo delle nostre cripto e vi possiamo confermare di aver ricevuto il pagamento da BlockFi. Se vuoi sapere come fare a recuperare anche tu le tue criptovalute su BlockFi, guarda il video fino alla fine. Adesso vi mostreremo l'articolo ufficiale rilasciato sul sito di BlockFi. Ma prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perderti altri contenuti sul mondo delle criptovalute. BlockFi è felice di annunciare che il suo piano fallimentare è ora effettivo e la società è uscita dalla situazione di fallimento a partire dal 24 ottobre 2023. Il management, i consulenti e le altre parti interessate di BlockFi hanno lavorato diligentemente negli ultimi 11 mesi per raggiungere questo traguardo cruciale. Siamo orgogliosi di affermare che BlockFi ha raggiunto la data di entrata in vigore in modo più rapido ed efficiente rispetto a molte altre società di criptovalute al dettaglio. Cos'è l'emergenza? Dopo l'emergenza, BlockFi può iniziare ufficialmente ad attuare le azioni dettagliate nel piano, incluso il rimborso dei suoi creditori secondo i termini del piano. Il piano consentirà alla società di effettuare. Recuperi Tentativo di recuperare beni che la società ritiene siano dovuti da FTX, 3AC e altre società e le loro proprietà fallimentari. Il successo in questo contenzioso potrebbe aumentare i recuperi dei clienti. Prelievi Continuare a distribuire le risorse digitali ai clienti, compresi i titolari di BIA. Sinistri Continuare il processo di riconciliazione dei sinistri per garantire che le richieste dei clienti siano accuratamente riflesse sia nella classe di attività che nell'importo e che i clienti ricevano distribuzioni giuste ed eque delle attività rimanenti e recuperate. Quando riceverai le tue risorse digitali? Per i clienti Wallet i prelievi sono attualmente disponibili per quasi tutti. Se non lo hai già fatto, accedi a BlockFi.com per inviare una richiesta di prelievo. Maggiori informazioni possono essere trovate nelle nostre FAC. Per i clienti BIA e Prestiti, ora che BlockFi è uscita dal fallimento, la società può iniziare la liquidazione come previsto dal piano. L'amministratore del piano e i rimanenti dipendenti stanno lavorando il più rapidamente possibile per preparare BlockFi per una distribuzione iniziale delle attività disponibili dal patrimonio in liquidazione. Ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche di questa prima distribuzione verranno inviati nei prossimi mesi. Puntiamo a iniziare le distribuzioni iniziali all'inizio del 2024. Eventuali distribuzioni successive dipenderanno da molti fattori, tra cui in particolare eventuali recuperi da parte di FTX e delle sue affiliate. E ricordati di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Assicurati di attivare la campanellina per non perderti altri contenuti come questo. Cosa devi fare? Per i clienti con fondi nel conto interessi, BlockFi, BIA e nei prestiti al dettaglio. Nei prossimi mesi riceverai un'email che ti chiederà di ritirare i tuoi fondi in base agli importi di recupero approvati dal piano. L'azienda prevede che questa sarà la prima ondata di distribuzioni, alla quale seguiranno ulteriori distribuzioni. L'importo delle distribuzioni successive è soggetto a molti fattori, principalmente al trattamento di BlockFi nei casi di fallimento di FTX. Per i clienti che detengono fondi nel portafoglio BlockFi. In questo momento, la società sta lavorando per distribuire fondi ai clienti con risorse nel prodotto portafoglio BlockFi. Se sei idoneo al prelievo e non hai ancora intrapreso alcuna azione, invia una richiesta di prelievo per ricevere i tuoi fondi in criptovalute il prima possibile, prima che la finestra di prelievo del portafoglio chiuda il 31 dicembre 2023 alle ore 23.59. Una volta chiusa la finestra di prelievo del portafoglio, BlockFi lavorerà per aprire i prelievi per una distribuzione iniziale di fondi immobiliari ai titolari di BIA e di prestiti al dettaglio. Come sempre, le comunicazioni con i clienti verranno inviate solo tramite canali e-mail ufficiali, sui social media BlockFi o tramite il nostro agente per i sinistri. E questo significa che BlockFi è nuovamente pagante e che anche voi dovete andare all'interno di BlockFi e prelevare? Vi abbiamo accompagnato in questo percorso per tutto l'anno, vi abbiamo dato tutte le informazioni e vi abbiamo aiutato a recuperare tutti i vostri fondi. E finalmente ci siamo riusciti. Quindi la prima azienda cripto che esce dal fallimento dopo il fattaccio successo lo scorso anno nel 2022 è BlockFi e finalmente abbiamo recuperato i nostri fondi. Fateci sapere nei commenti se siete riusciti anche voi a recuperare i fondi e se siete felici di questa cosa. Un saluto da Criptovalute Italia. Ciao e a presto!